Presidente, con l'accusa di compravendita dei parlamentari sul capo, è il caso che lei partecipi alla formazione del nuovo governo? Allora, senta una cosa, queste accuse ci portano in piazza il 23 di marzo per poter stare contro l'attività di una parte della magistratura che è un'attività di utilizzo della giustizia per combattere ed eliminare avversari politici che non si riescono ad eliminare col sistema democratico delle elezioni. Che la nostra posizione sia forte nei confronti di una parte della magistratura che si comporti in questo modo è chiaro ed è evidente. E questa cosa io l'ho già definita in maniera chiara, ho detto che è una patologia del nostro sistema, ho detto che è un cancro della nostra democrazia. Vi basta? Signori, buon lavoro!